Resta incredibilmente complicata la vicenda legata al futuro occupazionale dei 151 lavoratori impegnati nei due stabilimenti di Brindisi del gruppo DEMA. Come è noto l'azienda ha fatto intendere che potrebbero determinarsi le condizioni per un totale disimpegno in relazione ai due siti produttivi di Brindisi, mentre nuovi investimenti potrebbero verificarsi in Campania anche grazie a un contributo di 20 milioni di euro richiesto ad Invitalia. Adesso, a poche ore dal termine ultimo per la presentazione del piano concordatario al Tribunale di Napoli da parte del gruppo DEMA, il silenzio si fa sempre più assordante. Dopo l'incontro tenutosi in sede ministeriale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine del quale è emerso chiaramente il disinteressamento del gruppo DEMA nei confronti dei due siti Brindisini, immediatamente respitto a gran voce dalle parti sociali, la società ha tentato, con una PEC inviata due giorni dopo alle organizzazioni sindacali, di riaprire la discussione con improbabili giustificazioni. Di fronte a tale tentativo di una possibile ripresa dei negoziati, le segreterie nazionali di FIM, FIOM e UILM hanno inoltrato una richiesta ufficiale di incontro indirizzata sia ai rappresentanti del gruppo DEMA sia all'Istituto di Credito Mediobanca. Da qui in poi un silenzio assoluto da parte aziendale. Appare palese, come sottolineano anche i vertici della FIM CISL di Brindisi Taranto, che il tentativo effettuato dall'azienda per riaprire il dialogo è solo un comportamento adottato al fine di far sospendere gli stati di agitazione in atto nei vari territori, per riprendere la produzione e presentarsi al Tribunale di Napoli con un accordo sindacale che gli desse maggiori chance di accoglimento e non una volontà di rivedere il piano scellerato di ridimensionamento del gruppo DEMA che porterà inevitabilmente alla chiusura di tutti i siti, compresi quelli campani. È evidente pertanto che potrà essere ritenuta accettabile dai lavoratori di Brindisi qualsiasi soluzione che preveda la centralità dei siti brindisini e il pieno ricollocamento delle maestranze ad oggi in carico le tre denominazioni sociali impegnate qui a Brindisi, cioè DEMA, DAR e DCM legate da un robusto cordone umbilicale. Nei prossimi giorni è facile prevedere pertanto che continueranno gli incontri con i lavoratori unitamente alle istituzioni locali e regionali.